TG6 A Pescara due malviventi hanno portato via un bottino di circa 300 mila euro, un colpo studiato nei minimi dettagli proprio nel giorno in cui venivano pagate le pensioni. Vediamo. Pensione questa mattina? Sì, dovrei ritirare la mia pensione. C'è stata una rapina? Ah, ho sentito, non me l'ho manco accorto. Mi auguro che sia stata una rapina incruente almeno. Dopo domani. Si sono introdotti da una grata situata sul muro esterno dell'ufficio postale, poi hanno praticato un buco sul pavimento e si sono fatti trovare già dentro all'arrivo dei dipendenti. Erano le 8 di questa mattina, oggi, primo luglio, la cassaforte conteneva una somma ingente, quella delle pensioni. Si parla di oltre 300 mila euro, un'operazione durata 15 minuti, una pistola, passamontagna, due i rapinatori che hanno agito. Prima hanno chiuso tutti i dipendenti in una stanza, tranne la vice direttrice, che hanno poi obbligato ad aprire la cassaforte. Ad intervenire, pochi minuti dopo il colpo, squadra volante, squadra mobile e polizia scientifica di Pescara. Subito a lavoro per studiare i dettagli del colpo e le tracce lasciate dai due criminali, che, secondo le testimonianze, erano di nazionalità italiana, con una leggera inflessione meridionale, corporatura longilinea e giovanità. Sgomento e rabbia da parte dei passanti e dei pensionati per un colpo avvenuto in una via molto frequentata di Pescara, Viale Luisa d'Annunzio, proprio davanti ad uno dei simboli della città, l'Aurum. Una processione di pensionati che si sono avvicinati, hanno letto il cartello appeso sulla porta e hanno poi girato i tacchi, tornandosene a casa senza pensione. Cosa che capita, è solo che non riesco a capire perché non c'è una guardia di sorveglianza, perché tutte le volte si fa serapire. Incidente stradale mortale oggi pomeriggio lungo la bonifica del Tronto, nel territorio comunale di Colonnella, in provincia di Teramo, dove un uomo di 39 anni di Folignano, in provincia di Ascoli, Piceno, Massimo Peroni, è morto nello scontro tra il suo maxiscooter ed una Golf, all'altezza di un'area di sosta. Inutili i soccorsi del 118. Una prima ricostruzione indica che l'autovettura che procedeva in direzione Maremonti ha svoltato a sinistra per immettersi nell'area del bar della zona di sosta, finendo contro lo scooter che procedeva in senso opposto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Teramo, che stanno valutando l'ipotesi di omicidio stradale in presenza di una infrazione stradale all'origine dell'incidente. Il magistrato di turno, il PM Bruno Auriemma, ha disposto l'esame cadaverico sulla salma composta all'obitorio dell'ospedale di Sant'Omero. E ora ci occupiamo del caso di tubercolosi che si è registrato tra i migranti ospitati nella casa di accoglienza di Roseto degli Abruzzi. Stamani abbiamo ascoltato la direzione sanitaria della ASL di Teramo. Dottoressa, sul caso TBC a Roseto, chiariamo questa situazione? L'altro ieri io per prima ho detto cerchiamo di non minimizzare oltre il dovuto e di non creare allarmi oltre il dovuto. Vero è che io l'altro ieri non avevo in mano alcun riscontro. Faccio un passo indietro. Il paziente, quando è arrivato circa tre mesi fa a Roseto, è già stato sottoposto ad indagine. E questo io nel comunicato di ieri lo dico. È già stato sottoposto ad indagine. L'indagine era negativa. Quindi probabilmente il paziente incubava la malattia. Perché parliamo di un'incubazione lunga. Quindi se tre mesi fa era negativa, ieri abbiamo avuto la positività, lui farà il suo percorso, il suo decorso clinico a 21 anni. Quindi abbiamo motivo di pensare che avrà una prognosi positiva. Dottor Cecis, ci conferma che possiamo spegnere questo allarmismo, terrorismo verso i migranti? Visto il caso della tubercolosi a Roseto, la cittadina e il turismo non è in pericolo? No, assolutamente no. La cittadinanza può stare tranquillissima. Non c'è nessun caso e nessun rischio di contagio sia per i turisti, ma sia anche per i conviventi del centro di accoglienza. Non credo che in questo caso ci sia stato un allentamento della catena di prevenzione. Sono casi che possono succedere. Possono succedere agli migranti, come possono succedere agli italiani. Per la sorveglianza sanitaria, comunque ha seguito tutti i protocolli del Ministero della Sanità. Adesso il soggetto che è affetto da tubercolosi è sotto terapia farmacologica. Anche i coabitanti del centro saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria e eventualmente chi ne ha bisogno è anche al trattamento farmacologico. Ancora la cronaca aveva trasformato la controsuffittatura dei bagni del bingo di Pescara in un deposito di droga. La Guardia di Finanza ha arrestato un 35enne marocchino e ha chiuso la struttura per 15 giorni. Frequentava il bingo di Pescara ed aveva trasformato la struttura in un deposito di droga da spacciare in città. Ma la Guardia di Finanza ha posto fine all'attività del 35enne marocchino e Ipsron, le sue iniziali, residente a Foggia ma domiciliato a Pescara. Ed ha sequestrato un chilogramma e mezzo di cocaina e hashish. In particolare l'uomo aveva ricavato un nascondiglio nella controsoffittatura dei bagni della struttura dove di volta in volta si recava per estrarre la materia da spacciare. Le indagini degli uomini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Pescara sono scattate dopo un sequestro di hashish effettuato una settimana fa nelle vicinanze dell'area verde di Piazza Santa Caterina da Siena. Grazie ad appostamenti e pedinamenti è stato individuato un cittadino marocchino ritenuto referente di una rete di pusher della zona. Lo straniero, controllato dalle fiamme gialle proprio all'uscita del bagno, è stato trovato in possesso di numerose dosi di hashish e di circa 3.000 euro in contanti. Se immessa sul mercato la droga avrebbe fruttato fino a 20.000 euro. L'uomo si trova ora in carcere. La struttura del bingo resterà chiusa per 15 giorni su disposizione del questore. Il provvedimento, eseguito dalle fiamme gialle, è stato attuato ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ed ora cambiamo pagina. La ricchezza prodotta dalle regioni del Mezzogiorno cresce dopo sette anni di arretramento. Questo è il dato nazionale su cui la CGL costruisce la sua denuncia rispetto alla grave diminuzione dei contratti a tempo indeterminato. Per questo verrà lanciata una raccolta di firme per chiedere l'eliminazione dei voucher. Secondo i dati nazionali del 2016 si è registrata una crescita del PIL. Una notizia che dovrebbe dare il tanto atteso segnale di ripresa economica con le dovute ricadute su occupazione e lavoro. Ad intervenire subito è la CGL che contrappone invece i dati sul calo dei contratti a tempo indeterminato, la riduzione della stabilizzazione e denuncia anche l'effetto dei voucher sull'intero ambito. L'Abruzzo perde nel primo trimestre 2016 rispetto al primo trimestre 2015 13.000 occupati. Di questi 13.000 occupati 9.000 sono donne e 4.000 uomini. Diminuiscono fortemente nel primo trimestre del 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015 i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Questo dimostra che esauriti gli incentivi corposi dati alle imprese nel 2015, esauriti o dimezzati quegli incentivi, diminuiscono drasticamente i contratti di lavoro a tempo indeterminato. A fronte di questa situazione aumentano invece molto sensibilmente del 44,4% nel primo trimestre 2016 rispetto al 2015 i voucher. Questo dimostra che il lavoro precario è ancora molto diffuso, di cui il voucher è l'esemplificazione. Se a causare tanta instabilità, oltre a quella dei mercati, sono state le politiche introdotte sulla contrattualizzazione dei lavoratori, la CGL ha portato avanti una raccolta firme che ha raggiunto i cittadini su tutto il territorio, ottenendo una grande partecipazione. C'è stata una grande partecipazione dei cittadini e dei lavoratori e ciò indica che le persone vogliono maggiori diritti nel lavoro. La CGL d'altronde ha anche proposto, con una proposta di iniziativa popolare che verrà presentata a settembre, la riscrittura di un nuovo statuto dei lavoratori che dà più diritti alle partite IVA, ai precari, ai giovani. E ora parliamo di El Foundry, l'azienda cinese che ha acquistato l'ex Micron. Ad oggi non ha presentato il piano industriale e l'operazione non convince i sindacati. Sono 1.500 i lavoratori che continuano a lavorare con contratti di solidarietà. La Repubblica cinese mette radici nella Marzica, conquistando una delle aziende più importanti della provincia dell'Aquila. La SMIC, azienda di semiconduttori che ha sede a Shanghai, infatti, ha comprato le Foundry. Ma l'operazione non convince i sindacati, che parlano di piano industriale assolutamente ignoto. Noi dobbiamo essere convinti sulla base di un confronto che si deve aprire. Vogliamo conoscere i piani industriali, i piani di investimento che riguardano il sito di Avezzano, perché ovviamente non possiamo correre rischi. Abbiamo già affrontato un piano di riorganizzazione quando Micron è andata via. Adesso si prospetta l'ingresso di questa grande multinazionale cinese, ma noi saremo tranquilli solo dopo che avremo conosciuto, preso visione, dei piani industriali e dei piani di sviluppo che riguardano il sito di Avezzano. Per ora, i 1.500 dipendenti del sito di Avezzano, che lavorano con contratti di solidarietà, non sanno in realtà cosa gli accadrà e intanto continuano a lavorare sulle commesse già arrivate in azienda. Vorrei ricordare che quello è un territorio in qualche modo investito da una grande crisi industriale. Abbiamo perso migliaia di posti di lavoro e quindi non ci possiamo permettere salti nel buio. Ovviamente vogliamo essere fiduciosi, ma vogliamo capire e conoscere quali sono i progetti di sviluppo. Le preoccupazioni sono legittime, così come il nostro atteggiamento di attesa perché si facciano gli approfondimenti necessari, credo che sia altrettanto legittimo, vogliamo essere rassicurati pienamente, ripeto, dai progetti industriali del nuovo gruppo che si viene a costituire. Quindi nei prossimi giorni saranno dei confronti, a partire da quello ministeriale del 1 luglio, e quindi lì vorremmo capire a che punto siamo e quali sono i progetti che investono il servizio di Avezzano. Poi faremo le valutazioni di me. Un protocollo d'intesa per garantire ai detenuti d'Abruzzo l'inclusività nel sistema previdenziale. L'obiettivo è quello di innovare la pubblica amministrazione, adoperandosi per la reintroduzione nella società dei detenuti. Un protocollo d'intesa per una pubblica amministrazione che punta alla socialità inclusiva, destinatari dell'accordo i detenuti ristretti negli istituti penitenziari d'Abruzzo. Io tengo a sottolineare che mi piace molto di questo protocollo che l'amministrazione penitenziaria ha stipulato con l'Inps e che grazie ad esso sarà più facile per i detenuti avere le informazioni lavorative che gli interessano rispetto alla loro condizione ma anche alla disoccupazione e quindi questa è una risposta a esigenze che sono state manifestate dai detenuti che spesso lamentano magari qualche eccessiva pesantezza della burocrazia e io credo che grazie a questo protocollo tutto questo potrà essere svolto in modo più semplice e più efficace e io credo che questa sia una cosa molto importante. Una burocrazia più snella che prevede accessi programmati presso le sedi dell'Inps d'Abruzzo da parte del personale dell'amministrazione penitenziaria. L'ambizione è quella di contribuire ad un'opera di modernizzazione e innovazione e soprattutto di reinserimento dei detenuti nella società in nome del welfare. È un progetto che mira a prendersi in carico queste persone quindi attraverso i servizi che vengono svolti dal personale amministrativo del provvitorato interregionale potranno presentare le prestazioni presso i nostri uffici e avere la celerità dei canali privilegiati e anche una personalizzazione del servizio. È un modo per favorire l'inclusione sociale di queste fasce più deboli. Il piano di riordino sanitario voluto dal governo rischia di penalizzare i territori di L'Aquila e Teramo per questo motivo è stato ascoltato l'assessore alla sanità, l'assessore regionale Paolucci in Consiglio Comunale all'Aquila. Il piano di riordino sanitario che penalizza L'Aquila e Teramo fa discutere così l'assessore Paolucci è stato chiamato in Consiglio Comunale all'Aquila in audizione Un Consiglio Comunale straordinario sulla sanità. L'ospedale di secondo livello a massima specializzazione per le aree interne però appare più questione politica che sanitaria a questo punto. Se si vuole realizzare un ospedale di secondo livello all'Aquila va trasferita lì la cardiochirurgia che al momento è Teramo. Al contrario, ha detto Paolucci, se si vuole trasformare il Mazzini in un ospedale ad alta specializzazione andrà trasferita a Teramo la neurochirurgia aquilana. Il decreto Lorenzin, varato nel 2013, rischia di scatenare una vera e propria guerra tra territori. Un decreto che stabilisce, come è noto, una riorganizzazione sanitaria. Gli ospedali vengono così classificati in di base di primo livello e secondo livello veri e propri hub. Nessuno, insomma, si prenderebbe la responsabilità, ha fatto capire Paolucci, di spostare un'unità operativa complessa da un ospedale a un altro. Questo fatto scatenerebbe una rivolta o all'Aquila o a Teramo. Paolucci, anche ribadito come gli ospedali di Chieti e Pescara, distano tra loro circa 15 minuti. Al contrario, i nosocomi delle aree interne sono distanti almeno 40 minuti. Per questo, sulla costa, la sperimentazione partirà prima. Anche lì, tuttavia, ribadito l'assessore alle sanità, entro la fine di giugno 2017 si dovrà assumere una scelta precisa. Il decreto Lorenzin, infatti, stabilisce chiaramente che le reti dell'ictus cerebrale, dell'emergenza cardiologica e del trauma grave, insista in una stessa struttura. Il piano sanitario regionale ad oggi è stato già validato e approvato a Roma, al Ministero della Sanità. Per i prossimi tre anni, dunque, non sarà emendabile. Resta da vedere a questo punto l'atteggiamento politico che assumeranno i sindaci e i rappresentanti istituzionali delle aree interne, che sono certamente penalizzate da queste scelte. Un errore tecnico nel decreto enti locali rischia di far aumentare la tari del 50%. Si lavora per rimediare all'errore entro il 31 luglio. Quel pasticciaccio brutto dell'Atari. Cittadini sul piede di guerra all'Aquila per il possibile aumento delle tasse in città. Ma il decreto enti locali, quello per capire con il quale sono stati trasferiti 16 milioni di euro dal governo al comune, a compensazioni delle maggiori spese delle minori entrate post-sisma, sarebbe sbagliato. Come dice anche l'assessore comunale al bilancio, Giovanni Cocciante. C'è stato uno sbaglio del governo all'articolo 3 del decreto sugli enti locali, laddove parla del proposito dell'Atari del 2015 anno precedente. No, noi l'abbiamo chiesto a fronte delle minori entrate e maggiori spese, ma dell'esercizio 2016 non c'entra né nel 2015 né negli anni precedenti. Secondo il testo del decreto pubblicato qualche giorno fa sulla Gazzetta Ufficiale, i fondi al ristoro delle mancate entrate per la tassa sui rifiuti non potranno essere iscritti al bilancio 2016. All'articolo 3 si dice chiaramente che il contributo è destinato al ristoro per le entrate tributarie delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani afferenti agli esercizi precedenti al 2016. Il termine precedenti è fondamentale in questo caso, perché così come è scritto non sarà possibile attualmente coprire con i soldi del governo la spesa per il contratto di servizio con la SM, 14,5 milioni di euro, 3 milioni di euro sarebbero dovuti provenire dal governo attraverso questo decreto. Lo sbaglio nel testo dell'articolo 3 porterebbe necessariamente a un aumento della tari che è già alzata del 20% che verrebbe così aumentata del 50%, un salasso per le famiglie ma soprattutto per gli esercizi commerciali aquilani. E l'alternativa sarebbe la rimodulazione drastica del contratto di servizio tra Comune SM con un taglionetto però a servizi e possibili collassi nella raccolta dei rifiuti negli ultimi mesi. Il discorso, l'ha detto anche il sindaco Cialente, è che entro il 31 luglio va approvato assolutamente l'assestamento di bilancio e mentre la senatrice Pezzopane annuncia che in Senato si sta già lavorando per riparare l'errore tecnico, l'assessore Cocciante parla di magari un decreto ad hoc per l'Aquila se non ci saranno i tempi tecnici per fare altro. E allora per forza di cose, siccome il possibile aumento deve avvenire per legge massimo entro il 31 luglio è chiaro che una decisione va presa. Io spero ardentemente di scongiurare questo ulteriore aumento della Tari facendo corregge il decreto oppure speriamo di far fare un decreto ad hoc per l'Aquila, ecco ci sono i tempi per la conversione in legge del decreto enti locali prima della fine di luglio. A campo imperatore nei luoghi del film continuavano a chiamarlo Trinità, un pannello ricorderà Bud Spencer, l'iniziativa del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga che remonterà nei prossimi giorni, un pannello informativo che ricorda le scene entrate nella storia del cinema italiano e i paesaggi rimasti immutati nel tempo. Un personaggio amato dalla nostra gente, dichiara il presidente del Parco Tommaso Navarra che ha saputo trovare nello spettacolo superbo del nostro meraviglioso territorio il giusto scenario per ambientare pagine indimenticabili della storia cinematografica. E ora parliamo della notte bianca che si terrà domani a Teramo. Torna a Teramo la notte bianca prevista per sabato sera, questa volta non organizzata dall'amministrazione ma dai commercianti. Torniamo con la notte bianca, una notte bianca un po' diversa perché abbiamo voluto dare spazio anche ai piccini, infatti dalle ore 16 avremo intrattenimento per i bambini su tutti e tre corsi questa volta, quindi Corso San Giorgio, Corso Cerulli e Corso dei Michetti dove saranno comunque clown, giocolieri, si regaleranno palloncini, artisti da strada fino alle ore 19.30. Per poi passare verso le ore 20 con tutti i bar che faranno un menu fisso, quindi ognuno potrà scegliere il prezzo per la cena. In tutti i bar si proietterà la partita Italia-Germania, quindi daremo un momento di divertimento e speriamo un buon divertimento con un buon risultato della partita, per arrivare fino alle 11.30 dove in cinque punti dei tre corsi. Quindi negozi aperti fino a tardanotte, è stata difficile questa organizzazione? È stata difficile perché l'abbiamo fatta in tempi veloci, una settimana, quindi è dura, organizzare in poco tempo è duro. Torna nel weekend l'appuntamento con la Fiera della Pastorizia a Piano Roseto, nel Terramano, un evento che quest'anno giunge alla 157esima edizione. Nonostante la crisi questa Fiera della Pastorizia è arrivata alla 157esima edizione e poi lo possiamo dire sempre ogni anno molto partecipata. Questa celebrazione delle cose belle del nostro passato, delle nostre radici è un qualcosa di necessario. La Camera di Commercio ha sostenuto sempre questa iniziativa, questa manifestazione. D'altro quanto io credo che un aspetto importante di questa nuova stagione che dobbiamo promuovere e rappresentata dalla capacità di promuovere, la capacità di attrazione dei nostri territori. Noi dobbiamo saper vendere, ecco una parola brutta, vendere, la nostra storia, soprattutto le bellezze naturali di cui disponiamo. Appuntamento il 2 e 3 luglio, quali sono i numeri delle scorse edizioni? L'anno scorso l'ultima edizione ha visto la partecipazione di 72 allevatori che hanno portato le greggi lì proprio sul pianoro di Piano Roseto e di circa 45 espositori di prodotti tipici. Questo dalla misura di quanto sia importante il comparto dell'allevamento zootecnico di montagna e quanto è altrettanto importante invece la parte che poi sta a valle dell'allevamento che è quella della trasformazione dei prodotti e quindi nella realizzazione di prodotti tipici di qualità. È ovvio che bisogna spingere sulla qualità dei prodotti e quindi cercare di arrivare ad accorciare la filiera tra l'allevatore e il trasformatore e soprattutto arrivare al consumatore finale perché adesso il problema più grande proprio degli allevatori e dei trasformatori è quello di arrivare al mercato di sbocco in maniera facile e in maniera diretta. E ora apriamo la pagina sportiva presentata questa mattina alla campagna abbonamenti del Pescara per il prossimo campionato di Serie A. Forti sconti per chi è un abbonato fedele del Delfino ma non è mancata qualche battuta di mercato con il presidente Daniele Sebastiani che ha ufficializzato lo scambio Caprari-Biraghi con l'Inter. A proposito, proprio quest'oggi Gianluca Caprari ha effettuato le visite mediche con l'Inter. Queste sono alcune delle immagini estratte appunto da Sky Sport con Caprari che esce fuori dal centro dove ha effettuato le visite mediche. Sebastiani che ha anche escluso l'arrivo dell'attaccante Osvaldo e ha dato l'ultimatum al difensore Ageti. Ascoltiamolo. La nuova stagione del Pescara in Serie A, presidente Sebastiani con la presentazione della campagna abbonamenti. Avete voluto agevolare i vecchi abbonati, i fedelissimi tifosi del Pescara che hanno sempre seguito la squadra ma ci sarà spazio per tutti e l'augurio è quello di fare tanti abbonamenti per colorare l'adriatico di biancazzurro in Serie A. Sì, l'augurio è quello, come dicevi giustamente tu, più che premiare siamo riconoscenti a tutti quelli che ci stanno vicino da sempre e quindi era giusto premiarli. Però non è che gli altri li abbiamo mandati fuori, anzi i prezzi sono assolutamente competitivi perché vogliamo che lo stadio sia pieno sempre e non solo nelle partite di cartello ma perché questi ragazzi per salvarsi avranno bisogno veramente di tutto il calore del pubblico pescarese. Caprari è quasi a questo punto un giocatore dell'Inter? No, non è quasi. Abbiamo fatto questo scambio perché come avevo detto all'inizio cercheremo di fare una campagna intelligente. Abbiamo bisogno di un giocatore in quel ruolo, c'è Biraghi che è un giocatore giovane che ha già con circa 100 partite alle spalle e abbiamo fatto uno scambio con l'Inter tenendoci insieme una partecipazione sulla futura vendita di entrambi quindi abbiamo fatto un'operazione intelligente. Quanto riguarda la difesa, il discorso di Ageti? È un giocatore con il quale abbiamo parlato, io ho dato un tempo perché non faccio la ruota di scorta di nessuno, se il giocatore entro domenica ci darà una risposta sarà un giocatore del Pescara altrimenti guarderemo il trovo. Svaldi è un giocatore talmente forte che probabilmente se deciderà di andare a giocare altrove avrà 100 posti dove andare. Qualcuno l'ha tirata fuori, io non credo che sia un'ipotesi percorribile. Trotta Monachello? Sono due attaccati. Una bella coppia. Sicuramente sono due giovani di grandi prospettive e fanno parte di quell'elenco di profili che stiamo guardando. E i particolari della campagna abbonamenti del Delfino sono stati spiegati in maniera più analitica dal responsabile Francesco Troiano. La campagna abbonamenti è stata ideata come ha spiegato il Presidente in conferenza anche appunto per premiare chi ci dà sempre fiducia e i prezzi insomma fanno notare bene questa cosa. Abbiamo già ricevuto tantissime richieste come appunto siamo contentissimi di questo e puntiamo a fare davvero un bel numero di abbonamenti. Il listino sarà diviso appunto in tre categorie, in tre fasce di prezzo. Una destinata a chi l'anno scorso non era abbonato, una a chi aveva fatto l'abbonamento l'anno scorso lo riconfermerà e a chi addirittura ci dà fiducia ad almeno due campionati consecutivi che avrà degli sconti davvero forti. Infatti sono dei prezzi che difficilmente in Serie A si vedono più prezzi da Serie B. La campagna abbonamenti partirà lunedì 4 luglio alle 16 presso i 10 punti vendita che abbiamo indicato poiché abbiamo ampliato anche il numero di punti e avranno diritto alla prelazione fino al 22 luglio, mentre già dal 18 riusciamo a far partire contestualmente la vendita libera per gli altri posti. Obiettivo per quanto concerne la vendita degli abbonamenti, Francesco Troiano si è posto un tetto, un limite o una cifra che sarebbe soddisfacente? Ultima Serie A abbiamo fatto 7.000 tessere, quindi insomma con i prezzi che abbiamo fatto riempire metà dello stadio in abbonamento sarebbe veramente un bel risultato e sono convinto che metterebbe davvero questa città in rampa di lancio per un futuro rosio. E a proposito di campagna abbonamenti, nel Lega Pro il Teramo presenterà la sua di campagna abbonamenti lunedì prossimo alle ore 11 presso la Sala San Carlo interverrà il presidente del Teramo Luciano Campitelli. In Serie D il Chieti ha scelto il suo nuovo allenatore, si tratta di Nevio Orlandi, ex tecnico della Regina in Serie A e che guiderà i Nero Verdi nella prossima stagione. Un accordo quello con Orlandi, stretto lo scorso 13 maggio ma che a causa di problemi burocratici è stato reso noto solo oggi. Orlandi ha battuto la concorrenza di Massimo Costantino e succede a Umberto Marino che aveva preso in corsa il Chieti nella scorsa stagione al posto di Donato Ronci. Sempre in tema di direttanti ma scendiamo in promozione con il neonato Real Giulianova che riparte dall'ex tecnico della mitarnina Vincenzino Angelone. Per Vincenzo Angelone un ritorno alle origini, un ritorno a Giulianova, riparte questa nuova avventura del calcio giuliesi, una piazza importante e per Vincenzo Angelone questa sicuramente non è una di minuzio. Assolutamente no, è una piazza importante con un progetto importante. Quanto ci sono la possibilità di lavorare nei progetti seri come quello che mi ha illustrato il Presidente Bartolini, sicuramente non bisogna guardare la categoria ma bisogna accettare di buon grado, mettersi sotto e da subito farne parte e cercare poi prima possibile di raggiungere quegli obiettivi che sono inseriti in questo progetto. Obiettivi che ovviamente puntano ad un torneo di vertice ma soprattutto a tornare in pochi anni nel calcio che conta. Ma ce lavoriamo tutti, ce lavoriamo noi come persone principali del progetto, ce lavoriamo per i tifosi di Giulianova perché è una piazza calda, una piazza che merita altre categorie. Adesso siamo a buon punto perché siamo riusciti a sposare questo progetto insieme al Presidente, siamo messi subito d'accordo per quanto riguarda anche la parte tecnica, quindi dobbiamo subito iniziare a lavorare perché c'è bisogno di creare un buon gruppo, partiamo da zero quindi non abbiamo già la disposizione, quindi c'è bisogno di lavorare molto sul piano tecno, sul piano tattico, nella formazione come ho detto poc'anzi di un buon gruppo in modo da farci trovare pronti subito alla prima di campionato cercando già di ottenere dei buoni risultati che poi sono i risultati quelli che ricoinvolgono il pubblico, ridanno entusiasmo. Chiudiamo parlando del trofeo di nuoto città di Pineto. Cristina De Tullio del gruppo Spatangus è la nona edizione di una competizione di nuoto particolare, diciamo di cosa si tratta e quando verrà? Allora si tratta del nono trofeo di nuoto città di Pineto, si terrà il 2 luglio nel Lido, nel mare antistante Lido Donna Italia a Pineto e vedrà due percorrenze, una nuotata in acqua libera, due percorrenze, la classica dalla piattaforma Fratello Cluster a Riva e quest'anno una grossa novità che è la percorrenza doppia, quindi un gruppo di nuotatori partirà da Riva, virerà nei pressi della piattaforma e tornerà indietro. Ecco, a chi è dedicato e a chi è aperto? Questa manifestazione che è competitiva anche se in realtà non lo è, quindi siamo al limite appunto per passione sportiva, è dedicata a delle associazioni del territorio, in particolar modo è dedicata da Bill Bight e a dimensione volontario e poi con l'ausilio di vendita di oggetti, il crucilibro piuttosto che maglie o sacche, aiuta anche il canile di Pineto e la Caritas. Sicuramente il bel tempo è un componente fondamentale di questa manifestazione, una manifestazione di nuoto che vuole essere stimolante per l'aiuto sociale che vogliamo dare al territorio e soprattutto per la sfida personale che ogni nuotatore può avere con la reazione e la relazione uomo-mare. Io mi occupo della sicurezza in mare per cui dobbiamo anche garantire con Cristina e con gli altri amici, garantire che tutti i nuotatori siano certi di poter affrontare la sfida di se stessi con il mare in modo sicuro. Finisce qui il TG6 che torna con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.